Condannato a girare a vuoto al momento più che un mezzo di trasporto il tram resta solo un'attrazione per i palermitani ma ormai anche la curiosità iniziale si va affievorendo in attesa che venga approvato il contratto di servizio con l'AMAT in consiglio comunale. Le posizioni però restano molto diverse a partire dall'opposizione con Forza Italia che contesta numerosi aspetti della gestione della vicenda da parte della giunta comunale. A partire dalle ZTL e dagli introiti del passi viene criticata in sostanza la poca chiarezza sui diversi aspetti sulle modalità di pagamento sul piano industriale sul budget ma anche all'interno del partito democratico le posizioni non sono così nette di scarsa chiarezza parla ad esempio anche Nadia Spallitta che anche vicepresidente vicario non è il consiglio comunale che deve passare per responsabile dei ritardi dice Spallitta che ricorda come il tram inizialmente dovesse essere consegnato nel 2013 e come il contratto di servizio insieme al piano industriale siano arrivati solo due settimane fa in consiglio comunale. Un atto non da poco spiega sul quale servirebbe più tempo per gli approfondimenti dato che vista anche le tariffe della ZTL toccherà in maniera non indifferente le tasche dei palermitani. Insomma riassume Spallitta il consiglio comunale chiamato in due settimane sull'onda dell'urgenza di far partire il tram a decidere su una materia per la quale invece la giunta ha avuto due anni di tempo per gli approfondimenti. Da questa sera dunque la discussione in consiglio solo con l'approvazione del contratto il tram smetterà di girare a vuoto.